Amici di YouTube ben trovati da Marco Liguori, archiviato un trionfale festival di Sanremo che ha visto protagonista Albano così come Massimo Ranieri e Gianni Morandi per il Leone di Cellino San Marco. È tempo di pensare al futuro, Albano è stato il graditissimo ospite di Verissimo con Silvia Toffaninni, ci ha raccontato la storia della sua vita, ha parlato di Leone, ha parlato dei suoi genitori, Albano ha dichiarato mi sarebbe piaciuto trascorrere tutta la vita insieme con Romina Power così come hanno fatto i miei genitori, una dichiarazione cari amici di YouTube che ci coglie impreparati ma allo stesso tempo ci riempie di gioia e lanciamo una provocazione e dopodiché faremo un esperimento social. Da Albano e Romina vorremmo più fatti e meno parole se i due si amano è bene che lo dimostrino e l'esperimento social è il seguente, lasciate il vostro mi piace e condividete questo video dappertutto perché il primo canale di Marco Liguori è molto seguito ed è seguito da fan di Albano, da tutto il mondo, con tanti like il video potrebbe arrivare ai diretti interessati, lasciate il vostro mi piace adesso, amici di YouTube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciate il vostro mi piace, ciao a tutti.